eccoci qua se non l'hai già fatto iscriviti adesso al canale metti mi piace condividi il video e commentalo se vuoi seguimi anche sugli altri miei social basta che vai nelle info del mio canale youtube vedrai i link degli altri social e andiamo a parlare del workout che faremo oggi oggi farò un workout che impegnerà tutto il mio corpo tutti i muscoli del mio corpo ovvero un total body workout come la scorsa settimana ma semplicemente perché ritornando dall'estate devo ripristinare una routine settimanale nella quale alleno il mio fisico almeno tre quattro volte a settimana massimo quindi con esercizi che vanno da 12 gruppi muscolari ogni volta che mi almeno poiché non mi alleno da un mesetto devo recuperare quindi però dei workout total body finché non recupero le energie necessarie e lo stimolo necessario ad allenare gruppi muscolari in maniera ristretta e avere quindi più esercizi per gruppo muscolare in questo momento mi sto dedicando a fare meno esercizi e allenare tutto il corpo per bruciare un po più di grassi ma soprattutto per non aggravare molto sui muscoli che ancora devono recuperare da un mese di taglia quindi andrò ad allenare tutto il corpo questa volta farò due esercizi per gruppo muscolare e quindi partirò dai muscoli più grandi che sono dorso petto e gambe fino ad arrivare ad allenare spalle bicipiti e tricipiti e infine completerò con gli addominali per la parte di un incendio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti